Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming! Benvenuti su Tiny Tina Wanderlens in questo nuovissimo videoguida in cui vi mostrerò l'esatta ubicazione di tutte 24 e biglie perdute sparse per le varie mappe di gioco. Non vi rubo altro tempo, vi invito a descrivervi sin da subito per altri contenuti di questo tipo. Un saluto e buona visione! Bili? Dämon powers are just unpredictable in halflings. Those castle walls were bound to fall anyway of when we bumped it them in. Maybe the townsfolk will see I did them a favor. Um, after I buy Bili a clean pair of trousers. There's a marble mine nearby. Go and crash! Get open! The townsfolk made up a ditty about me. Here comes little devilkin, knocked on the school by passing wind. Just because it's true doesn't mean it doesn't sting. I'm human too. Aren't I, flesh and bone? Don't my ten hearts beat? If you prick me, do I not gush eternal in the life force of darkness? Fine. Go and crack! Open. Open. no no eldon's parents were legendary heroes wyvern tamers giant slayers favorites of the queen he wants so much to be special like them like me when i said he already was è stato un po' di più è stato un po' di più e vuoi essere un po' di più quando mi sono so happy a per fare un coin Eldon iniziò un sforzo di bambino una parte di un'altra inizia infatti lo chatti rispondendo ad una costante demon e topical ointment straordinario team isa no nothing like little math and organization eldon thinks my powers are cool i've started lifting everything when he's around horses cartes anvils i lifted him once but a wyvern snatched him and it took forever to get enough raw skag to lure it back uh un'altra desirazione demon tried to sneak up and possess me today Ci sono sempre cercano di congare i halflingsi a andare full D, come noi non abbiamo abbastanza problemi. Eldon lo fuori. Beh, è stato trattato e si trattato. Ma lo stesso che ho detto, è stato il mio heroe. E gli ha sorriso. Mi piace di farlo sorriso. Noi. 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 Noi tutti ch вопросano l'automaggare le conventionali. Grazie a tutti. 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 ... Grazie a tutti. ... 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 Sì 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 Sì